Il fischio che determina la fine della gara. Molte cose positive oggi direi, soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Questa squadra dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!